Dopo aver subito quattro anni di oscillazioni essendo in balia del mare e delle onde, la condotta fognante che fa brutta mostra di sé nella spiaggia di Mare Nostrum a San Leone si è rotta e ovviamente il contenuto fognante si è riversato in mare. A darne notizia l'associazione Mare Amico, i militanti dell'associazione ambientalista avvertiti di questa situazione si sono subito recati sul posto e dopo aver constatato la situazione hanno avvertito i vigili urbani e l'ASP di Agrigento che hanno provveduto ad avvisare l'ente gestore delle fognature che in nottata è intervenuto con una soluzione tampone, cioè una piccola fascetta di contenimento che non potrà certamente fronteggiare la potenza del mare. Anche alla luce di quanto sta accadendo Mare Amico chiede nuovamente un immediato intervento a difesa della zona. Le prossime mareggiate abbatteranno il pericolante muro che, crollando sulla condotta fognaria, la distruggerà creando un disastro ambientale di notevoli proporzioni. Non c'è pace dunque per le acque di San Leone, da tempo ormai vittime di guasti fognari e disastri ambientali che avevano portato due anni fa, come si ricorderà, addirittura al divieto di balneazione.